per questa ricetta vi serviranno 100 grammi di farina io ho utilizzato questa di riso perché dai ragazzi in cui vado non mangiano glutine quindi potete trovarla all md poi ho 100 grammi di cioccolato fondente 3 uova andrò a mettere un cucchiaino di lievito per dolci 150 grammi di zucchero e 50 grammi di burro andiamo a vedere come si fa un po' un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.